Oggi andiamo a vedere l'ultima parte di questo capitolo e della seduta di Sam. Domanda, dove si trova per il resto del tempo? Mormorando sottovoce di se è un luogo stupendo, non è vero? Ah, guarda com'è meraviglioso essere là, nelle cascate di luce. Piscine dorate di luce meravigliosa ovunque, docce, fontane di luce, luce dorata ovunque. Oh ragazzi, è amore, è un oceano dorato d'amore. Questo è il luogo dove va tra incarnazioni, sì ragazzi è magnifico, è un sole, è in un sole. Mari dorati di luce, non è necessariamente in un pianeta, è come un sole, potrebbe essere il sole. Sa cosa? Non posso essere al centomila per cento sicuro di ciò che sto dicendo, ma lascia che ti dica, questa è la prima cosa che mi viene in mente. A me sembra il sole, potrebbe essere il sole? Si può passare del tempo nel sole? Il sole è gigantesco, qualsiasi cosa è possibile. E questo sole è un altro sole? Potrebbe essere piscine dorate di luce meravigliosa. Oh, docce di luce, è calda. Quindi Sam decide sempre di tornare ed entrare in un corpo alla fine dei millenni. Ah, missioni, perché si trova qui adesso? Deve essere in grado di alzare un corpo. È stato fatto in passato, ma nessuno ci crede. Tutti possono farlo. Deve essere in grado di alzare un corpo. Cosa vorresti dire? C'è una trasformazione, non so esattamente cosa sia. Lo sto ancora facendo, vedi? Potremmo prendere tutta la nostra energia della luce. L'universo è pieno di luce. L'universo è tutta luce. Ed è solo in un corpo tridimensionale che si può assimilare abbastanza luce. Quando sei nel corpo di luce, puoi prendere abbastanza luce da poter vivere. Vivi in ogni cosa. Si vive sempre, sempre, sempre. I corpi di luce si possono mettere a letto, ma in generale sono sempre vivi. Quindi è difficile farlo in un corpo fisico, solido, denso. Sì, in altri luoghi lo fanno in ogni momento. I loro corpi fisici non hanno fine e hanno vite molto lunghe. Ma sulla terra è perché è così negativo, stanco e pesante. Sentite qui. È sulla terra, non sai chi sei. Perdi la connessione quando vieni sulla terra. Non vedi il tuo corpo di luce quando vieni sulla terra. Non sai che sei un corpo di luce. Ragazzi, ed è perfino difficile scoprirlo. Wow! Sulla terra è dura. E tutti sono così persi. Dovevo venire qui e il mio compito è di spiritualizzare un corpo. È stato fatto in passato e nessuno sembra saperlo. Si può fare. Alcuni l'hanno fatto vivendo nella luce. Hanno elevato un corpo di terza dimensione alla quinta dimensione. Questo è ciò che fanno. Ma adesso lui è in un corpo fisico e vive in una vita fisica. Sì, è così. E per molto tempo non capivo nient'altro. Non sapevo niente. Non avevo assolutamente alcuna idea. Avevo perso tutti i miei ricordi. Davvero? Perso tutti i miei ricordi. Non posso crederci. Vieni su questo pianeta e perdi tutti i ricordi di chi sei. Beh, il Subquanshò ha qualche suggerimento per Sam. Resta sul sentiero. Resta sulla strada che stai percorrendo. Continua a provare. Continua a lavorarci su. Continua a cercare di connetterti. Apri i tuoi corpi di luce. Trova i tuoi corpi di luce. C'è più di un corpo di luce. Ce ne sono di più. Ci siamo ancora lavorando. E ci sono degli altri che stanno lavorando su questo. I nostri corpi vivranno a lungo. I nostri corpi saranno più rifiniti. Saranno più alti. Saranno più leggeri. Saremo in grado di accedere a più dimensioni. Sam dovrebbe essere verso il prossimo livello. Cresci ed impara. Questo è ciò che sta facendo. Continua a tirare. Su e giù. Io lo aiuto sempre. Avrà una possibilità. Ha una possibilità di combattere. Ah, emozioni. Sono le nostre emozioni. Emozioni. Saprà qualcosa. Dovrà cercare di capirlo. Non è ancora così facile. La Terra è terribilmente densa. Questo non sarà una cosa facile. Inoltre è disgustosamente difficile viaggiare tra la terza dimensione, la quarta dimensione e la quinta dimensione della Terra. È incredibile e difficile tornare dalla quinta dimensione dopo essere stato lontano per qualche tempo. Questo è uno scopo. Il suo problema è servizio a se stesso. Non ha mai davvero compreso la differenza tra servizio a se stesso e servizio agli altri. Wow. Wow. Questo è... È pazzesco. È pazzesco ciò che dice qui. Il servizio a se stesso sono quelli orientati negativamente. Il servizio agli altri è quello che è orientato positivamente. Sei servizio a se stesso, servizio a famiglia e amici. Questo viene considerato servizio sulla Terra. E servizio è un termine vago. Questo è difficile. E qui Dolores continua dicendo Durante un'altra seduta una cliente vide una Terra desolata. Il terreno era secco e arido. Gli alberi non avevano foglie né rami, quasi come se fossero stati bruciati. Alcuni erano piegati e danneggiati. Quando stava entrando sulla scena vide un dinosauro, ma successivamente non vide nient'altro eccetto questa zona arida e desolata. Poi trovò un piccolo villaggio accovacciato tra due montagne dove c'erano i fiori. Questo significava che le cose stavano iniziando a crescere ancora. Successivamente, quando chiesi al subconscio, disse che questo era il periodo successivo alla distruzione dei dinosauri. Chiesi cos'era successo. Dissero che l'unica cosa visibile era un potentissimo enorme vento di distruzione che eliminò ogni cosa sul suo cammino. Accade solo in certe aree perché i sopravvissuti stavano vivendo in una zona ad alta cota che non era stata toccata. Il resto dei dinosauri alla fine vennero decimati perché dopo questo evento non erano rimaste molte risorse. Avevano molto da mangiare e non potevano adattarsi ai cambiamenti climatici come avevano fatto gli animali e gli umani. Quel vento di fiamma poteva forse provenire dall'esplosione di quel pianeta o forse c'è stato qualche altro evento lungo la tumultuosa storia della Terra. Nel mio libro The Legend of the Star Crash è descritto un clima completamente diverso nella regione dell'Alaska, Canada prima che qualcosa di violento ebbe luogo creando grandi venti, terremoti e il capovolgimento dell'asse terrestre. E qui continuo con un'altra descrizione. Questo è un commento. Una donna venne dalla Francia volendo multiple sedute. E durante l'ultima seduta stava parlando di colore che sono dell'energia venusiana, gli esseri che venivano da Venere. Descrisse come molti, molti, moltissimi anni fa. Venere era proprio come la Terra ed era abitata da esseri fisici. Viene chiamata il pianeta sorella della Terra. Ma l'atmosfera e tutta la gente vennero distrutte a causa di disastri naturali. non a causa della guerra. Quando questi disastri naturali ebbero luogo, il pianeta si scaldò. Non era chiaro se questo era stato causato dalla distruzione della barriera d'ozono. A quel punto la gente transitò in un'altra dimensione in cui non avevano bisogno del corpo fisico. Esistettero essi e volsero da quel punto. Venere non è più abitabile e non si può più abitare perché fa troppo caldo. ma la gente le loro anime presumo che possiamo dire fecero la transizione allo spirito. Apparentemente si potevano anche rincarmare. Andiamo avanti e qui Dolores va ad un'altra seduta. Stavo finendo questo libro quando incontrai un altro caso della distruzione di un pianeta. Pensai di doverlo includere piuttosto di aspettare il prossimo libro. La prima parte della seduta era confusa perché Adelè non era sicura di cosa stesse vedendo e sembrava come luce solare che filtrava attraverso alberi della corteccia argentata. Era molto buio e pacifico perché gli alberi avevano iniziato a chiudersi sopra di lei e ad oscurare il cielo. Poi sembrava che fosse dentro ad una caverna. Sono già stata qui e come imbrunire dopo che è sceso il sole c'è luce puoi vederlo è la stessa luce non importa quanto vada in profondità ho la sensazione che potrei anche essere sotto terra non so da dove provenga la luce mi sento al sicuro. Non puoi stare male lì giù a quel punto iniziò a piangere sono a casa ma non c'è più non dovrei essere lì non penso so di non poter restare lì mi rende triste non penso che esista più penso che sia sotto terra dove si può essere al sicuro è sempre più sicuro sotto terra ma questa è una bella sensazione vero? Non quando non puoi più tornare a casa quando non c'è più e divene emotiva mi fa star male non so dove sono adesso non è là e stava singhiozzando non c'è più l'unica cosa che è rimasta è questa luce unica e Dolores dice le chiesi di tornare indietro nel tempo per scoprire cos'era successo sono forme come piramidi sulla cima sentirei che passano tutte la stessa luce argentea argento le piramidi sono a punta in giù vuoi dire questo? sì sono invertite è bella grande la cima è scuro lassù i lati non sono lisci sono come vene foglie di alberi solo che non sono foglie non so cosa sia ma si illumina mentre cammini è come se stessi passando in mezzo e faceva fatica ad esprimersi sto attraversando qualcosa come un tunnel non è un tunnel tunnel dovrebbe essere rotondo ma non lo è ha i lati arrotondati sono come vene o qualcosa che ogni tanto va verso il fondo dove esce florescente luminoso non brilla illumina giusto per vedere non vedo fino a dove va perché la luce è così intensa che non riesco a vedere nient'altro adesso è come fumo che si contorce a spirale quindi Dolores dice c'era qualcosa che stava disturbando a te e non voleva vederlo più le chiese di diventare consapevole del suo corpo e questo la rese ancora più insofferente non so se ho un corpo un volto non so chi sono non ho piedi fluisco questo è ridicolo questo non può essere ho bisogno di avere i piedi sembra che io stia fluttuando ma questo è ridicolo non so se sto davvero fluttuando o se me lo sto inventando non è forse un modo più facile di spostarsi eh sì ma dovrei avere un corpo come ti senti sicuro e stava ridacchiando non ho bisogno di tenere connesso cambia e si muove non è come il fumo è tutto in un posto e posso muoverlo in qualsiasi direzione senza girarmi sento che tutto si sposta sembra muoversi molto velocemente mi sento come se fossi un polipo che si muove credo ci si deve sentire bene ad essere senza restrizioni no? sì puoi muoverti e fluire ovunque tu voglia sì ma adesso è finito questo luogo sì non c'è più siamo uno col tutto parte dell'uno sono andata altrove ma non so dove sono dovrebbe esserci il calore questo è principalmente argento grigio e mi sembra di muovermi più velocemente ma il luogo sotto terra quello che chiamavi casa del quale eri molto felice avevi detto che non c'è più era esploso e l'avevo detto volevano sapere di più non era mai abbastanza di chi stai parlando? chi voleva di più? divenne emotiva e disse gli altri sulla superficie perché non potevano essere soddisfatti? giocavano con il mondo oh merda idioti vivevi sulla superficie? no no vivevi sotto terra? sì ma sapevi cosa stava succedendo là? lo abbiamo sempre saputo ma nessuno ci credeva non volevano crederci volevano fare quello che li pare ma noi volevamo che lasciassero stare avevi detto che stavano giocando col mondo? pensavano di aver tutto sotto controllo ma non era così non era potere era un qualche cristallo era negativo voglio dire era buono ma era male perché volevano sempre di più bambini che giocano ma adesso non ci sono più per cosa usano i cristalli? e divenne ancora emotiva stava attraendo energia dalle stelle l'avevamo detto no e iniziò a singhiozzare non è colpa tua non sapevi che mi avrebbero abusato no? dovevamo saperlo che erano dei bambini e stava singhiozzando bisogna prendersi cura dei bambini non sanno cosa fanno e fece un lungo rantolo di dolore no avremmo dovuto restare ed osservare e l'avevamo detto adesso è finito tutto siete un gruppo o sei da sola? siamo uno noi siamo uno uno una mente collettiva molti ma uno ci chiesero delle informazioni se qualcuno fa una domanda devi rispondere ma non puoi accusare te stessa se l'hanno usata male non eri responsabile per le loro azioni ma siamo tutti responsabili per le azioni altrui facciamo tutti parte del tessuto ciò che facciamo è influenza agli altri ogni volta che un bambino spara con la pistola è colpa nostra per avergli dato una pistola non è colpa loro per aver premuto il grilletto questi esseri fisici che vivevano in questo luogo erano consapevoli di te erano a conoscenza del tuo gruppo collettivo facevano delle domande sento oracolo siamo uno ma non eravamo uno eravamo una collettività quindi l'oracolo lavorava con le informazioni e le passava? eravamo l'oracolo noi noi sempre noi richiedevano delle informazioni e voi ilennavate? non vedevamo alcun male in ciò che li dicevamo forse è impossibile conoscere ogni risultato perfino con il potere che avevate forse non potevate anticipare ogni cosa che avrebbe potuto accadere camminiamo in diverse direzioni ma tutto è finito pezzettini sparpagliati in tutte le direzioni che girano su se stessi penso che abbia avuto un effetto sulla collettività ha strappato il tessuto tutto è andato era un pianeta o cosa? e ansimava e si lamentava perché hai detto che c'erano pezzi che andavano in tutte le direzioni? non posso dirtelo semplicemente era non so cosa fosse non so dove sia è sparito piccole stelle tutto frantumato ci sono rimasta per un po' rimasi là non so dove era il resto di noi è come se io fossi con i pezzetti dove sei andata dopo di questo? persa sono persa mi sento persa non posso andarmene però non posso andarmene da là per un po' perché ti senti ancora responsabile per quei pezzetti? eravamo responsabili tutti noi devo restare per un po' e cercare di chiamare gli altri sto cercando di farci tornare tutti unite ancora una volta non ho la sensazione di essere ancora sul mondo mi sento squarciata e qui Dolores dice posso capire perché si sentisse così sconvolta a proposito di ciò che era successo al mondo in cui era ovviamente responsabile ma volevo portarla via da lì la spostai avanti fino al momento in cui aveva deciso dove andare successivamente e dice c'è un cordone argenteo e stava ritacchiando ci sono degli arcobaleni dentro non so dove stia andando ma penso che andrò là lo seguirò sembra quasi un warm wall e spunto così ma io ero così stanca salgo su per il warm wall e poi mi straio per riposare non so dove ma mi piace non voglio tornare fuori mi fa così male sono in uno stato di incubazione quindi non sei più quell'energia connessa a quella collettività no non so dove siano andati li ho persi sono così stanca e qui Dolores dice questo era molto confuso e poco chiaro però pensavo che fosse entrata in un feto e si stesse preparando per la nascita decisi di far parlare il subconscio per ricevere risposte ai chiarimenti e qui Dolores dice questo era piuttosto confuso era sottoterra e divenne molto emotiva a causa di qualcosa che era successo sulla superficie perché avete scelto di far vedere ad Adele queste cose? informazioni le informazioni che ha paura di raccogliere la paura di causare un'altra catastrofe non fare alcun male ha paura dei risultati di questa conoscenza la conoscenza è potere è vero sono tutto nella modalità d'uso della conoscenza lei faceva parte di cosa? è difficile da spiegare a meno che non si prendono le dita di una mano l'intera mano è ciò che le dita sono ecco cos'era eccetto che era erano più dita erano tutti connessi tra di loro e lavoravano come un'unità l'unica mente una mente ascoltavano e analizzavano ciò che sentivano a me sembra qui che sta parlando di un complesso di memoria sociale come lo chiama Ra nella legge dell'uno oppure un arcangelo questo potrebbe essere simile a ciò che siete il subconscio sì eccetto che ci sarebbe il subconscio come un dito di multiple mani più come un polipo che una mano come un agente chimico capace di operare da solo ma anche in connessione al corpo intero è difficile è sempre difficile spiegarsi cerca di fare del tuo meglio sarebbe come una collezione di frustini tutti appesi legati assieme e tutti questi frustini pensano gli stessi pensieri analizzando ogni pensiero mettendo la propria parte nel gruppo e alla fine c'è questo esplosione di energia che è il pensiero ma ognuno capace di pensare e nessun fattore di distacco forse non tanto connesso alla collettività quanto ne avesse avuto bisogno di esserlo ed è per questo che comunicavano rispondevano alle domande indiscriminatamente perché la conoscenza era solo conoscenza erano privi di giudizio semplicemente dicevano ciò che sapevano gli venivano fatte delle domande e rispondevano non c'era alcun giudizio semplicemente analizzavano le informazioni anche se consapevoli delle potenziali ripercursioni non c'era modo di sapere cosa sarebbe successo almeno finché non li avessero detto e il processo non fosse iniziato ma le altre energie cercarono di fermarli dicendogli che ripercursioni avrebbero avuto il loro messaggio vennero denigrati chiamati inutili vennero denigrati con molte parole che qui non hanno alcun senso per dirgli che erano inutili che avevano fatto la loro parte e che potevano tornare alla loro caverna la gente disse loro che li avevano superati e che non avevano più bisogno di ciò che potevano offrire la collettività li avvertì che se avessero continuato ciò che stavano facendo sarebbero finiti col distruggere ogni cosa e la gente gli disse che si sbagliavano e che non volevano sapere più niente di loro la collettività avendo fatto apparentemente ogni cosa possibile si riterrò e attese pensavano di sapere di più però non so cosa sia la collettività questo è molto interessante perché sono e non sono cosa vorresti dire? non so quanto sia reale erano energia la collettività non era come la gente la gente decise di prendere le informazioni e usarle nella maniera sbagliata si erano avidi volevano di più Iadele faceva parte della collettività in quel momento sì ma non era colpa sua vero? si sentiva come se lo fosse si sentiva di non averli educati abbastanza che se solo avesse fatto un po' di più le cose sarebbero andate bene c'è molta tristezza per questo a dire il vero dal punto di vista puoi vedere se c'è qualcos'altro che lei potesse fare voglio dire non proprio colpa sua lei non è certo responsabile colpa è una parola molto sottile c'è qualcosa di più profondo qui di cui siamo tutti responsabili non solo per i nostri successi ma per i nostri fallimenti questo fa parte di ciò che siamo tornati a fare il fatto che la colpa è come un bambino che dice non è colpa mia Adele vede che ci sono diversi strati che ogni persona contribuisce positivamente e negativamente anche se lei lavora duramente per allontanarsi dalle negatività il suo errore è di sovracompensare qui ha molta paura di aver distrutto un mondo lei non ha fatto niente sono stati loro sì ma senza le risposte alle domande non sarebbero arrivati dove erano e lei è stata sciocca a rispondere alle domande dove avrebbe dovuto usare discernimento adesso si preoccupa del discernimento ti dimentichi che c'è il libero arbitrio e il libero arbitrio ha due facce la luce e l'oscurità ying e yang una volta osservò un mondo distrutto il suo mondo deve superare il dolore che ha sperimentato è davvero piena di giudizio di se stessa preferirebbe infilarsi in un buco e restare al sicuro non so cosa farà ma so cosa dovrebbe fare dovrebbe uscire dalla sua caverna dalla sua sicurezza non so se lo farà la paura di fare qualcosa di sbagliato e opprimenti schiaccianti a volte la forza a diventare passiva piuttosto che doverci passare a causa del danno che era stato fatto è stata una cosa davvero orribile perché non solo ha perso il suo mondo ma anche la sua collettività perse ogni cosa era per la prima volta nella sua esistenza completamente sola e senza la collettività era vulnerabile e davvero incapace di comunicare era muta, sorda e cieca non c'era più alcuna sicurezza non era solo quanto lo fosse essere uno senza la collettività perdi la tua forza, il tuo potere, la motivazione sei e basta e l'unica cosa che poteva fare era sapere che il gruppo si riunisce ma non fu così lascia che ti faccia una domanda forse non la vedo correttamente questa collettività era forse l'anima del pianeta che è stato distrutto l'energia stesso del pianeta chiamava se stessa la collettività è difficile identificarlo separatamente da ciò che era ma penso che fosse parte del pianeta poteva funzionare con o senza ma tornava sempre alla collettività del pianeta so che i pianeti stessi sono vivi e pensavo che fosse questa collettività fosse quella coscienza penso che forse fossero un libero sopra voglio dire erano consapevoli degli altri e facevano parte ma non erano separati e potevano parlare agli altri non penso che il pianeta potesse parlare agli altri ma poteva parlare con la collettività e la collettività poteva rispondere questa mi sembra giusto ecco perché sarebbe separato da ciò che siete voi questa era una collettività isolata se così la possiamo definire sì questo sembra avere senso e qui Dolores conclude dicendo che Adele ebbe molte vite sulla terra ma era da moltissimo tempo che si teneva dentro questa tragedia la stava ancora influenzando e la bloccava da raggiungere il suo pieno potenziale dovete lavorare con il suo conscio per un bel po' al fine di permettergli di lasciare andare per lei era arrivato l'ora di andare avanti con il lavoro che era venuta qui a fare tutto questo l'aveva limitata troppo a lungo ci sarebbe voluto molto coraggio perché potesse fare dei cambiamenti drastici nella sua vita e con questo si conclude questo meraviglioso capitolo ciao a tutti e a domani grazie